Oh hi! It's me again! Questo motivo anche io l'ho utilizzata veramente veramente poco perché mi dà un sacco di Fall Witch vibes e mi viene proprio voglia di utilizzarla in questo periodo. Questo raga è l'interno, è stupendo, non ha uno specchio come potete vedere però cioè nel senso è anche super low cost e credetemi poi adesso comunque la vedrete in azione per la qualità che ha, va benissimo. Amo questa cialda che ovviamente non andrò a mischiare perché cioè raga non voglio rovinarla, è bellissima. Ho provato ad utilizzarla con un pennellino super da precisione nella parte del bianco ed è bellissimo però al massimo voglio utilizzarla così. Le altre colorazioni comunque vedete fanno molto Halloween mood. Comunque ci tenevo a farvi un make up con questa palette. I nomi delle cialde spero possiate leggerli, mi fanno impazzire. Comunque ho già applicato una base occhi e vado con un pennellino da sfumatura a prelevare Devil in Blue, questo viola. Lo vado ad applicare nella parte un po' più esterna. Questo non l'avevo mai provato e rispetto all'altra mi sembra un filo più secchino. Vado ad applicarlo principalmente picchiettando e vado con un altro pennello pulito sempre abbastanza da sfumatura a prelevare Candy Corn, questo arancio super power. Ha dei micro glitter però una volta sfumati non si vedrà assolutamente nulla. È super piccola la cialda e wow! Già questa mi sembra molto meno secca e lo vado ad applicare sopra Devil in Blue. Vado ora con un altro pennello sempre da sfumatura un po' più angolato stavolta a prelevare Pumpkin Guts, questo arancio un po' più arancio zucca. Questa è la pigmentazione e la vado ad applicare nella parte più interna. Vado ora con un pennellino piatto a prelevare Phantom che non so quanto renda ma rada è bellissimo. È un viola tutto super olografico. Queste due cialde sono glitter, tipo questa, questa, questa sono shimmer, queste invece sono proprio dei glitterini. Io sono andata ad applicare un filo di base glitter ma questa è una formulazione che volendo potete anche applicarla così che già va bene, già ha una colla all'interno. Io veramente mi auguro che rendano come dal vivo perché wow! Cioè rada sono bellissimi! E vado ora sempre con un altro pennellino piatto a prelevare Witching Hour appunto l'altro glitter. Questa in realtà è un po' più trasparente. Come potete vedere c'è sembra quasi che non ci sia. È molto più trasparente tipo Topper però dà una luce bellissima. C'è rada wow! Io veramente spero che renda quanto è bello perché è stupendo. Fallout raga non ne vedo. Ho applicato praticamente tutto picchettando, non vedo fallout. Vado comunque a pulire la zona ma più che altro proprio per definire la forma. Credo che andrò ad applicare l'eyeliner perché secondo me ci sta. Cioè secondo me va a completare un po' il tutto. Utilizzo sempre questo mio bellissimo, odiatissimo eyeliner di Huda. Perché è odiatissimo ve l'ho già spiegato nell'ultimo video makeup. Quindi se ve lo siete persi e siete curiosi del motivo andate a recuperarvelo perché appunto lì ve ne parlo abbastanza bene. Raga bomba questo eyeliner sui glitter scrive benissimo. Quindi si immagina che magari in questo momento siate un attimo shooked nel senso hai appena detto che lo oddi. Sì ma non per il tratto, è bellissimo. È nulla raga, io vado a fare lo stesso ovviamente sull'altro occhio. Vado a fare la base. E noi ce la vediamo tra pochissimo. Ed eccomi di ritorno al look completo. Alla fine ho utilizzato Pumpkin Guts come blush perché volevo un blush un po' aranciatino. Non so in realtà se mi fa effetto malaticcia. Fatemi sapere però beh secondo me dai con il look ci sta. E come illuminante sulla punta del naso e nell'angolo interno dell'occhio ho utilizzato Chookin'n'Eyes di Jeffree Star. Perché sapete il mio amore per quell'illuminante. Mentre invece sulle labbra ho applicato Gingerbread Man delle Melted Matte di Too Faced. Sempre un po' per stare sui toni aranciatini. Ci sarebbe stato molto bene anche un nero però ho voluto provare con questo. Fatemi sapere che cosa ne pensate. E quindi raga nulla per il video di oggi direi che è tutto. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo punto del video. Come al solito vi ricordo di andare a dare un'occhietta giù nell'info box perché li troverete tutti quanti. I link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social. Io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao! I'm back! Boo!